Sono soddisfatto dell'impegno assunto dall'assessore Maio di cui condivide appieno l'intenzione di vederci chiaro nella vicenda che è interessata al peschereccio italiano Mina, primo sequestrato dalle autorità francesi, poi rilasciato sotto pagamento di una cauzione da 8.000 euro. È necessario risolvere ogni dubbio sulla autorizzazione alla pesca della flotta Ligula nella strategica forza dei gamberoni che, come è noto, non interessa i pescatori francesi. Così è intervenuto in aula Alessandro Piana, capogruppo della Lega Nord di Regione, che ha presentato un'interrogazione all'assessore alla pesca Stefano Mai in merito al sequestro del 13 gennaio scorso del peschereccio Mina a distanza nel porto di Sanremo e fermato dalle autorità francesi nella zona ridosso del confine tra Ventimiglia e Mentone durante la pesca al gambero in profondità. Ora che l'attenzione mediatica si è spenta, dice Piana, come istituzione abbiamo il dovere di andare a fondo di quello che potrebbe costituire un pericolo precedente, viste le conseguenze drammatiche che potrebbero derivare dall'interdizione della pesca nella cosiddetta forza dei gamberoni per le flotte Liguli, Piana auspica che i ministri agli esteri e alla pesca diano chiarimenti e non ratifichino gli accordi per la modifica dei confini marittimi con la Francia.